Sono Biagio Esposito, ricercatore scientifico del Tecnopolo CNR di Bologna e guru dei bassisti di Rocky Miller. Come inizia la tua carriera musicale? Come arrivi ai Rocky Miller e come arrivi ad essere ricercatore? Un tragitto così un po' lungo. Nella prima parte sono venuto qui a Bologna e sono calabrese. Sono venuto qui a Bologna a studiare e in realtà studiavo poco perché in realtà facevo il musicista. Poi ho suonato negli studi di registrazione, ho fatto il turnista per nove anni, poi ho smesso di fare il turnista e ho deciso di intraprendere un'altra carriera. Quindi ho deciso di finalmente laurearmi e di fare il dottorato e di seguire un po' una carriera leggermente diversa. Cioè andare a vivere all'estero, sono stato a Praga, ho vissuto a Catania per due anni laddove c'era un'attrezzatura di un certo tipo che mi interessava per quelli che erano i miei studi. E successivamente sono arrivato al CNR di Bologna, prima come borsista, poi lentamente sono entrato dentro e lì ho conosciuto Fabio Zaffagnini, il quale conoscendo il mio curriculum ha detto devi darmi una mano e a quel punto non potevo dirgli di no, quindi ho ripreso a suonare il basso. I Rocky Miller chi sono? Cosa fanno? Fabio Zaffagnini una mattina si è svegliato e ha deciso che non gli interessava più organizzare dei pullman per portare la gente ai grossi concerti partendo da Cesena o dalle Mila Romagna. I concerti si svolgevano a Milano o a Roma. Partendo da questo subbuglio emotivo ha deciso di inventarsi qualcosa, cioè di far sì che la sua band del cuore, cioè i Foo Fighters, venissero a suonare a Cesena, che è in realtà un sogno perché nella città di Cesena il Palasport, che è il luogo più grande dove si possono fare i concerti, ospita 2500 posti, quindi i Foo Fighters non vanno in posti così piccoli. Ha pensato per poter ottenere una cosa del genere, se la chiedo io da solo non mi ascolta nessuno. In mille a chiedere questa cosa a Dave Grohl forse la cosa può avere un seguito. Ergo è stata organizzata una giornata dedicata ai Foo Fighters, cioè mille musicisti che abbiamo suonato un brano dei Foo Fighters. E alla fine della registrazione, cosa anche abbastanza complicata perché è la prima volta che suonavano così tante persone, Fabio ha fatto l'invito, ha invitato i Foo Fighters a venire a Cesena. Il cantante dei Foo Fighters ha detto veniamo e da lì è cominciata un'avventura vera e propria. È la band più numerosa al mondo. Abbiamo anche un Guinness. Cosa provi tu quando suonate e cantate all'unisono? Suonare davanti a un pubblico come quello dello Stade France dove c'erano 54 mila spettatori e suonare un brano lento o un brano che a te piace tanto, ti elevi, vai in un'altra dimensione. È quello che accade a questi eventi fantastici. Con il tuo lavoro da ricercatore, cosa ti auguri di fare? Al momento io mi occupo di depurazioni delle acque dagli inquinanti emergenti. Cioè ci sono un po' di sostanze nelle acque che non vengono depurate dai depuratori. E' la conseguenza di tutto ciò che questi composti crescono quantitativamente sempre di più e alla fine ce li ritroviamo, scusate il termine non proprio scientifico, nel rubinetto. Quindi a volte è importante pensare a quello che accadrà a breve e cioè che questi composti poi cominciano ad essere tossici nell'acqua. Al momento esso non è ancora un'emergenza, ma come ricercatori noi dobbiamo andare un po' oltre e quindi anticipare i tempi. Nella musica invece cosa sperimenti? Allora io ho anche una band, ci chiamiamo Love Polaroid e in questi brani in realtà facciamo piccole sperimentazioni che sono legate ai mezzi che utilizziamo, cioè accordature aperte, cose che insomma necessitano di un minimo di ricerca. Da grande che cosa vuoi fare? Quando andrò in pensione credo che andrò a fare il pittore sulla spiaggia e fare qualche acquarello con l'acqua di mare. Con l'acqua di mare. Utilizzi l'acqua di mare come Leonardo utilizzava. È un solvente, invece di utilizzare l'acqua utilizziamo per fare... Scusa, risposta. No, no, è bellissimo invece. Il tuo modo di sentire è quello sempre di trovare una soluzione a qualche cosa, sperimentare. Scusa, risposta. Scusa, risposta. Scusa, risposta. Scusa, risposta. Grazie.